È residente nella provincia di Milano la famiglia che ieri è stata vittima di un tragico incidente ferroviario. Lorenzo e Giulia Pippolo, di 12 e 6 anni, sono morti sul colpo mentre la madre, Simona Dallacqua, 49enne, lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Ieri sera è stata sottoposta ad un intervento chirurgico protrattosi per alcune ore e le sue condizioni sono definite dai medici gravissime. Intanto resta sotto sequestro il treno che a Branca Leone, nella zona ionica Regina, ha investito in la famiglia che stava attraversando i binari per raggiungere il mare. Il sostituto procuratore della Repubblica di Locri, Michele Permunian, titolare dell'inchiesta aperta sull'incidente, vuole accertare, secondo quanto si è appreso, la funzionalità del mezzo e in particolare l'efficienza del sistema frenante. Il treno che ha investito la famiglia è composto da due carrozze, entrambe motrici, con una capienza di 63 posti ciascuna. La velocità massima che questo tipo di treni può raggiungere è di 130 km orari. La tratta in cui si è verificato l'incidente è a binario unico e non è elettrificata. I locomotori, la cui costruzione risale agli anni Ottanta, sono alimentati a gasolio. Il procuratore Permunian ha comunicato che sentirà tutti i passeggeri che si trovavano a bordo del treno per acquisire tutti gli elementi che consentono di ricostruire la dinamica dell'incidente. A tale scopo il magistrato sentirà anche il macchinista ed il capotreno del convoglio. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Branca Leone in pochissimo tempo. La piccola Giulia, di sei anni, affetta da una forma di autismo, mentre il gruppo attraversava i binari per raggiungere il mare, è sfuggita di mano alla madre lungo la linea afferrata. All'inseguimento della bambina si è posto Lorenzo, il fratello dodicenne. A quel punto Simona Dallacqua ha cercato di raggiungere i figli per farli allontanare dai binari. Ma in quel momento però è sopraggiunto il treno regionale partito da Cantanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria. Il macchinista ha attivato la sirena per segnalare il pericolo ed azionato i freni, ma non ha potuto evitare l'impatto con le tre persone che si trovavano sui binari. I bambini sono stati travolti in pieno, morendo all'istante, mentre la madre, investita in modo parziale, è rimasta gravemente ferita. La donna, una casalinga milanese, conviveva da tempo con Antonino Partiglia, di 54 anni, insegnante di scuola superiore a Milano, originario proprio di Branca Leone, dove la coppia insieme ai tre figli della donna. C'è anche una ragazza di 16 anni che non si trovava sul luogo dell'incidente perché è rimasta a casa. Erano arrivati nei giorni scorsi per trascorrere un breve periodo di vacanza.